Due albanesi arrestati resi alla Ragusa per detenzione spaccio di stupefacenti si tratta di Cristal Malai, 23 anni, e di Elzen Aliai, di 26, fermati a bordo di un SUV ad un posto di controllo della polizia. Il perme è avvenuto nei pressi di via Sant'Anne. Due occupanti avevano cercato subito di sbarazzarsi di un involucro plastificato. La mossa non è sfuggita agli agenti che hanno pertanto rinvenuto due confezioni di plastica contenente cocaina, oltre ad alcune banconote da 20 euro. Le singole dosi, per un totale di 8 grammi e soldi, sono state postoposte a sequestro. Sono stati successivamente perquisiti i rispettivi domicili e sono stati trovati due bilancini di precisione, oltre a diversi fogli di carta plastificata, utilizzata per confezionare le singole dosi. Durante ulteriori servizi, inoltre la polizia ha fermato un'auto con a bordo quattro giovani vittoriesi. L'auto stava per accelerare, ma la volante l'ha subito bloccata. All'interno è rinvenuto una mazza da baseball e il conducente, non sapendo giustificarne possesso e provenienza, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Grazie. 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 Grazie.